Questa meditazione è guidata da Edoardo Conte, fondatore del portale della fratellanza fraternity.it. Serve a penetrare il valore del sostegno. Chiudiamo gli occhi e portiamo la nostra attenzione. Al cuore. Il cuore la cui profondità contiene tutti i valori e dunque possiamo rivelare questo valore del sostegno che emerga dal cuore in tutta la sua luce. Il valore del sostegno è il risultato della fusione del valore dell'amore con quello dell'ordine, che ha come simbolo il frontale del tempio, poiché l'ordine scandisce l'esistenza. Il significato del sostegno è dunque quello di fungere da piattaforma salda e compatta, sulla quale le traversie della vita, dai ritmi travolgenti, trovano appoggio. Così il bastone del viandante sostiene il suo progredire, né lento né frettoloso, ma costante e bilanciato. Pensiero seme. Il sostegno è la forza dell'amore che pone le basi su cui costruire la vita. La vita come esistenza, come la costruzione consapevole dell'ambiente e ancor più in particolare della casa, il luogo, il posto in cui svolgere l'esistenza. Ecco che allora il simbolo del tempio acquista una valenza potente, è il luogo in cui il divino ci sostiene, ma è anche sostenuto dall'umanità. E quel luogo, il tempio, si trasmuta nella casa. Nella casa in cui l'essere umano trova sostegno attraverso l'affetto, l'amore che dà e riceve dai propri cari. E dunque quella superficie, quella base, quel pavimento, l'amore compatto, saldo, su cui erigere la vita attraverso i pensieri, i sentimenti e le azioni. Le azioni sono le colonne del tempio. Il tetto è la mente astratta. E quell'amore esprime il cuore aperto. Senza un cuore aperto non si può costruire una casa sicura. che ci protegga, ci sostenga, ci dia riparo, ma anche un luogo da cui spaziare. Ecco, questo credo che possa risuonare dentro ciascuno di noi e possiamo ricevere quegli stimoli, quei quanti che ci aiutino a proseguire. con la certezza di svolgere il nostro compito in nostro servizio come umili ma saldi, pronti, servitori del piano. Ed ora ognuno coi propri tempi ritorni alla coscienza di veglia.